E' il momento di staccarsi dalla realtà, verso il mare o la montagna che differenza fa, tu ci puoi trovare proprio come più ti va, e' il momento di lasciarsi andare se che vuoi, ti importa che è che tu lo facessi di noi. Vi ricordiamo Oro Vacanze su Facebook, animazione Oro Vacanze, oppure animazione chiocciola OroVacanze.it, se volete mandare qualche bel messaggio, ci trovate lì, eh? Magiche! Magiche! E' tutti! Vai, 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 tranquilla! E' qui! Vai, vai, mani! Attenzione, capitani! Il lunedì ce lo viene già, una nave piena di emozioni e felicità, l'equipaggio è pronto e con lui ci porterà. Per problemi di amore, salute a fanari, la nostra Connie mi aspetta su Facebook. Segui sul palco scenico per divertire voi, con altri ballerini, attori, pronte a fare, da manine vai! Per problemi di amore, se ne vieni a stare con noi, insieme all'Oro Pre, provate più se vuoi, ti puoi sentire un re. E gira! E sai che noi ci ricordiamo e stai, insieme all'Oro Pre, tu puoi starvi mai! Giulia, è il tuo ultimo Hollywood, te! Eh già! Per due vacanze! Magiche! E tu qui vai! Gira, gira, vai! Gira, gira, vai! Grazie.